L'Italia è tutta bella e a volte ci può capitare di confondere location e panorami, ma cosa succede se a ingarbugliarsi un personaggio famoso, a saperne qualcosa, è Maria Grazia Cucinotta che si è resa protagonista di una sfortunata gaff sui social che, come è noto, non perdonano. Cosa avrà mai combinato l'attrice? Nata in Sicilia, a Messina, pare aver fatto un po' di confusione tra alcune delle location turistiche più belle del nostro paese, comprese quelle della sua terra. A finire sotto accusa è stata un'immagine che la ritrae in un ristorante vista mare dalla cui terrazza si scorge una magnifica veduta. Nel suo commento la bella attrice ha scritto ricordi di Taormina, la Sicilia nel cuore. Non l'avesse mai fatto, il web è subito insorto, dato che quella che compariva alle sue spalle non era certo la perla sicula, bensì una località dell'isola di Ischia. No, internet non perdona e chi non attacca direttamente la cucinotta se la prende con i gestori delle sue pagine social. Cambia staff, recita un commento. La foto pare sia Ischia, da siciliana fai una cattiva figura. Che l'errore sia stato commesso direttamente da lei o da un social media manager, poco importa. Ormai la frittata è fatta, nonostante alla fine la pagina abbia cambiato anche la caption, ammettendo che in realtà è Ischia, è vero. Una brutta figura, quella della cucinotta, ma in fondo, a chi non è mai successo di confondersi sfogliando le foto delle proprie vacanze. Grazie. 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 Grazie.